Eeeh ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Showdown Questo è l'ultimo quarto di finale che stabilirà la seconda semifinale del torneo Ricordiamo che la prima si disputerà tra Cassandra protagonista di Assassin's Creed Odyssey E Jacob Fry co-protagonista di Assassin's Creed Syndicate Mentre dalla sfida che andremo a vedere tra Edward Kenway protagonista di Assassin's Creed 4 Black Flag E Nikolai Orelov protagonista di Assassin's Creed Chronicles Russia Uscirà lo sfidante di Ezio Ditore della seconda semifinale Pertanto ragazzi scopriamo chi affronterà l'assassino italiano e partiamo Sigla Il campo di battaglia è un giardino di una tenuta ottocentesca Nikolai si presenta armato di fucile, spada e la macelata Edward risponde col suo set di pistole, la spada e la lama celata Il russo scruta il gallese cercando di capire il momento opportuno per sferrare il primo attacco Mentre l'avversario pare abbastanza tranquillo come se avesse un piano d'attacco ben preciso in mente Kenway estrae subito la pistola stile stallo alla messicana E spara un colpo che però Nikolai evita rotolando sul lato e gettando un sasso alla mano di Edward che perde la pistola Orelov si scaglia con un blocco stile football all'americana Atterrando con una spallata lo stomaco di Edward e subito estrae la lama celata abbattendola sul collo del britannico Che però incrocia le braccia e blocca il colpo inferto dal sovietico Edward si divincola e si rimette in piedi estraendo subito la spada e colpendo Nikolai che para il fendente con la lama celata ancora estratta Il russo estrae la sua spada e inizia a duellare con Edward Entrambi padroneggiano l'uso di tale arma e il loro duello sembra una dimostrazione di abilità di un'accademia di scherma Le difese però vincono sugli attacchi Ogni colpo portato da uno è parato o deviato dall'altro La situazione pertanto è in una fase di stallo E per questo Edward cerca di smuoverla colpendo con un calcio il fianco del russo Che però incassa il colpo e con una testata fa cadere al suolo il gallese Nikolai decide di farla finita ed estrae il fucile Ma Edward capisce l'intenzione del suo avversario E rapidamente corre a nascondersi dietro un'enorme fontana di pietra posta al centro del giardino Orelov lo insegue e lo raggiunge La distanza ravvicinata non gli consente di sparare Inizia ad usare il fucile modalità baionetta Ossia cercando di infilzare Edward con la lama posta sulla sommità del fucile Usandolo pertanto a mo' di lancia Edward riesce a schivare un paio di colpi Ma a causa di una radice esposta sul terreno Inciampa e viene ferito di striscio a un fianco La veste bianca del gallese inizia a colorarsi di rosso E Kenway è visibilmente sofferente Si volta cercando di fuggire Dando le spalle a Nikolai Che decide che è il momento propizio per finire l'avversario E lo carica puntando la lama del fucile dritto alla schiena di Edward Il pirata all'improvviso si gira E inizia a correre anche lui verso Nikolai Come spinto da un istinto suicida Si sente uno sparo La lama del fucile del sovietico è affondata nell'altro fianco di Edward Fuoriuscendo nella parte opposta della schiena Ma la testa di Nikolai è letteralmente spappolata Colpita a bruciapelo da un proiettile sparato da Edward Questo infatti mentre era girato Aveva preparato una delle sue pistole E una volta voltatosi Per essere certo di non mancare il colpo Si era gettato contro l'avversario Decidendo volontariamente di farsi infilzare al fianco Per assicurarsi che le mani del russo fossero bloccate Fatto questo E subita la ferita in un punto non immediatamente letale Ne aveva approfittato per puntare la pistola alla tempia di Nikolai E fare fuoco Edward Kenway raggiunge Ezio Auditore in semifinale Per Nikolai il torneo e la vita terminano qui Bene ragazzi Così si conclude una sfida che per voi non è mai stata in bilico Vittoria che definire netta È davvero poco da parte di Edward E adesso il gioco si fa davvero duro Perché inizieranno le due semifinali Infatti da ora sul sito www.ilgrandagliassassini.it Potete decidere voi L'esito della prima semifinale Che come vi ho detto prima Vedrà contrapposti Cassandra e Jacob Frye Vi ricordo come al solito che il sondaggio terminerà domenica 2 giugno Sono davvero curioso di scoprire chi sarà il primo finalista di Assassin's Creed Showdown Suppongo anche voi Bene il video termina qui Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like Iscrivetevi e attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che escono E detto questo noi ci rivediamo in un prossimo video Bella Baby but you know I never will So I choke you down just like a pill Grazie a tutti